3 gol ed accesso al secondo turno di Coppa Italia di Serie D. Buona la prima della nuova stagione per il Casarano che batte 3-1 il Sambiase. Cambia subito il punteggio al Capozza. L'arbitro indica il dischetto per questo episodio in area che vede per protagonisti Martinenco il 2006 dei Salentini e strumbo calciatore dei Calabresi. Dal dischetto lo iodice non perdona, mette a segno la prima rete in partite ufficiali con la sua nuova squadra. Reazione Sambiase, Zerbo calcia con il Mancino, Fernandez blocca. La traversa poi nega la gioia del gol a Perez sul lob a scavalcare Giuliani. Strepitoso dalla parte opposta a Fernandez, l'ex Altamura si supera su Mugnoz. Il Casarano capisce che c'è poco da scherzare con questo Sambiase e prova ad aumentare il margine di vantaggio. Lo iodice a meno 7 dall'intervallo, si sistema la sfera sul destro ma non riesce a trovare il guizzo del raddoppio. Finale di tempo invece favorevole agli ospiti. Guastamacchia decisivo nel salvataggio sulla conclusione di Zerbo. Non perdona invece Solomon che firma l'1-1 a metà gara. La partita è gradevole anche nel corso della ripresa. Il Casarano prova a mettere in risalto le maggiori qualità tecniche. I calabresi però se la giocano a visaperto senza disdegnare la fase offensiva. Il punteggio cambia ancora solo all'alba dell'ultimo quarto d'ora e Opola a trovare il tocco vincente da due passi che riporta in vantaggio ai pugliesi. Poco più tardi arriva anche il gol della sicurezza. Lo realizza Ferrara entrato in campo nella ripresa al pari di Malcore. Complicità evidente però del portiere ospite nell'azione che porta al definitivo 3-1. Il Casarano dunque continua la sua avventura in Coppa Italia di Serie B e domenica, sempre a Capozza, aprirà il campionato contro la matricola Costa Damalfi.